Ale! Oi! Ale! Oh, ciao Ale! Che sta a fare qua? Dove c'è andato? Eh? Dove c'è andato? Sono a prendere la roba, perché? No, che è? Eh, ora ti faccio vedere che ho portato. Che hai portato? Eh, guardate, è una cosa... che? No, questo stava al mercatino del vintage, e l'ho comprato, le ho pagato, le ho scritto 21 euro, le ho pagato 7 euro. Va be' conviene, hai fatto un buono acquisto. E poi ti ho portato una cosa spettacolare! Poi dopo gli spieghi che cosa l'hai comprato a fare ma non più i capelli miei e poi ti ho portato un oggetto che è fantastico e che ci dobbiamo fare niente facciamo una recensione al volo pure stasera dobbiamo lavorare siamo nati siamo nati per soffrire caro mio alessandro e cari amici da casa questa sera mi sono andato a prendere un piccolo gioiello da lavoro ma veramente un gioiellino adesso alessandro gli ha dato due tre proprio sferzate per vedere se era veramente come gli dicevo è rimasto contento e soddisfatto adesso alessandro ci dirà qualche caratteristica in più di questo oggetto innanzitutto che modello è questo allora questo è un asus dell'expert book la serie è il p24 51 fa come modello come modello che poi la particolarità stavamo dicendo dell'expert book qual è sta montando un pannello alessandro da 13 pollici montato su una scocca da 14 quindi hanno proprio perfezionato la parte proprio del pannello pesa un chilo e mezzo la macchina quindi è veramente per metterlo come stavo io nello zainetto proprio nella parte più piccolina e quindi è da lavoro da esterno quindi è una macchina versatilissima e per di più caro alessandro è stata studiata e progettata e anche dal test che hanno fatto per la sua robustezza infatti quello stavamo dicendo vero infatti ha un utilizzo possiamo dire quasi militare perché vi diciamo questo perché in realtà questa macchina è stata progettata utilizzando adesso non so se vediamo se riusciamo a fare mente locale e a trovare il eccolo qua eccolo qua guardate pensate è stato utilizzato lo us military grade che si chiama mil std per standard 810 g sarebbe multiple test passate cioè tutto questo test complessivo che è un test di natura militare sotto tutti i punti di vista è stato fatto e questo computer mi ha passati tutti i test di questo livello proprio per la robustezza e per l'utilizzo massiccio di un certo livello che questa macchina può sopportare considerate che poi vi manderemo le foto vi faremo vedere alcune immagini la macchina ha provato dei stress test a livello di scuotimento addirittura l'hanno fatta cascare da una certa altezza io tanto guardo una cosa Alessandro prego 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 ci mancherebbe e quindi è una macchina molto molto robusta su questo ci battiamo molto perché adesso fate la girata ma voi vedrete che questa parte in alluminio ripeto vi manderemo delle foto del coperchio se uno poi va a vedere la scocca che è veramente molto rigida ma è in plastica ma come ci avete fatto vedere tantissimi notebook che erano completamente in alluminio a dire che questo è robusto no ragazzi vi assicuro è stato fatto in un modo veramente fantastico adesso vedo che fabio vi manderà le immagini ma addirittura l'hanno costruito all'interno lo vedrete nelle foto che adesso vi manderemo direttamente per voi per poter vedere un video così al volo bravo passiamo questo adesso non si vede eccolo qua adesso questo vi farà vedere passerà agli strati come è stato costruito questa macchina c'è uno strato interno proprio fatto in alluminio che è un alluminio piuttosto spesso proprio per la solidità che deve avere questa macchina quindi potete portarlo appresso metterlo nello zainetto potete sentire immediatamente la tastiera vi ingannerà a primo impatto perché vi ripeto solo la parte posteriore alluminio qua sulla parte bassa c'è la plastica ma è fatto guardate ragazzi io sto spingendo è veramente robusto è stato fatto veramente sotto tutti i punti vista curando tutti i crismi possibili immaginabili abbiamo installato il sistema operativo e abbiamo messo in realtà lui sta montando come non come quello dell'altra volta che lì c'era un windows 10 home qui montiamo un windows 10 professional già compreso proprio perché giustamente è più decentrato verso il lavoro giusto perché questa è una macchina esatto da lavoro diciamo quindi da works non è una macchina da gaming o quell'altra poteva anche diciamo qualche gioco lo potevamo fare però anche se sui test ci ha dato delle buone risultate no non è vero si è stato ottimo la parte diciamo clou di questa macchina è a parte la bellezza la portabilità e il peso veramente molto leggero la solidà indiscutibilmente la solidità di questa macchina con caratteristiche adesso vi andiamo a elencare che fabio una per una quindi anche di un certo livello e vedete che già di per sé considerando queste caratteristiche il prezzo di circa 800 euro è già giustificato perché è una signora macchina e vedrete cosa che vi lascerà stupefatti sui test che pur avendo una scheda grafica non di quelle mega galattiche comunque noi abbiamo fatto girare office abbiamo provato i test abbiamo fatto già dei file in powerpoint abbiamo fatto dei test normali insomma quelli che si classiano da lavoro e anche con delle immagini bravo perché noi abbiamo detto si è vero e nasce per il lavoro però abbiamo detto sai che c'è per lo svago per lo svago per i film abbiamo fatto diverse prove cose che l'altra volta non abbiamo fatto siamo rimasti a bocca aperta ragazzi veramente a bocca aperta perché è una macchina sotto i punti ci sono delle particolarità che mano a mano che vi spiegheremo le caratteristiche adesso ve le facciamo vedere sono dei plus che veramente altri notebook di questa fascia non hanno vogliamo partire con le caratteristiche guardate cioè ragazzi fai vedere ok se noi lo mettiamo su una scrivania questo pannello nano edge ci permette di vederlo in ogni angolazione se siamo in un posto di lavoro possiamo tranquillamente far vedere quello che vediamo in tutte le sue ci ha pensato l'ha letto l'hai letto su intero l'ho letto anch'io ma tu hai letto quello che io gli ho detto scrivere sono io che l'ho tanto non ci riesce di essere quindi non ci viene quindi in realtà è stato progettato per questo quindi in realtà se una persona sta al mio fianco da quest'altra parte tutti possiamo vedere l'angolazione giusta di questo considerate che va proprio in orizzontale completamente perfetto quindi voi potete tranquillamente scrivere adesso lo facciamo vedere a parte guardate così lo vede a parte la robustezza della macchina a parte la robustezza dei tasti che non schiacciamo se no si ferma il video che cosa c'è qua in mezzo adesso gli faremo uno zoom come al soli facciamo uno zoom di tutta la macchina ma che anche oggi c'è il braccio robotico l'hanno visto l'altra volta poi se no si abitano poi costa un sacco di soldi ogni volta a noleggiarlo no si può fare tutte le volte ragazzi i vecchi di pad montavano questa trackball praticamente che hanno poi riportato su alcuni lenovo poi altre macchine solo che qui è fatta ragazzi in maniera eccezionale cioè veramente si sfiora non rischiate che il mouse parta per tutto lo schermo la dovete provare è fatta veramente bene si può tranquillamente controllare il mouse per tutta la grandezza dello schermo nella maniera più precisa possibile oltre solitamente alla solita trackball che hanno tutte le macchine allora la premessona perché questa non è una premessina ve l'abbiamo fatta io direi a questo punto andiamo agli elencare le caratteristiche giusto partiamo ragazzi pronti subito con le caratteristiche in questo momento ho fatto il prepotente ad Alessandro l'ho mandato via mi ha cacciato facciamo vedere prima le porte della nostra macchina e dopo parlarvi delle caratteristiche proprio interne della macchina processore ram, disk e quant'altro insomma hai fatto come ti pare diciamocelo ma sì sì questa volta sì ma è giusto ma power report poi sono premiato oggi sono andato al mercatino dai hai ragione ho preso un fono vintage quando hai ragione hai ragione ecco qua benissimo è sufficiente guardate Alessandro che bello zoom che ci ha fatto su questo modello che su altri non ci sono proprio perché è una macchina da lavoro quindi hanno pensato un po' a tutte le connessioni giusto e soprattutto vecchie perché da lavoro utilizzano vecchi strumenti che cosa abbiamo? la porta VGA che sta sparendo ok poi abbiamo una connessione in realtà qui sono due ma qui c'è la nostra pennina fatta apposta per fare i nostri test quindi sono di nuova generazione quindi sono usb 3.2 di prima generazione abbiamo un jack audio singolo quindi qui si può mettere anche quello del classico nostro telefono ok quindi microfono e cuffia e al fianco abbiamo la porticina per la micro sd vero Alessandro? verissimo bene girando il nostro portatile andiamo a vedere le porte dalla parte opposta quindi abbiamo da questa parte il connettore di alimentazione abbiamo la porta di rete che su questo modello work abbiamo messo non l'abbiamo non è che l'ho messo io magari Alessandro magari però lo hanno messo non l'ha più nessuno erano quasi spariti per mettere solamente il wifi ed è comoda come no e abbiamo un vediamo se ve lo faccio vedere eccolo qui questo piccolino abbiamo un usb c di 3.2 di seconda generazione a fianco abbiamo l'hdmi quindi della parte opposta voglia da questa parte abbiamo l'hdmi quindi abbiamo coperto un pochino per quanto riguarda l'uscita dei nostri video e a fianco un'altra porta usb con questo è tutto l'unica cosa che vi voglio far vedere che vi aveva detto Alessandro che era importantissimo ve lo faccio vedere che verrò un pochino più avanti lo vedi bene lo vengono benissimo eccolo qui è il nostro sense point che praticamente è il touch bar praticamente scorrevole che con il nostro ditino ci andiamo a muovere vedete ragazzi vedete adesso che Fabio ha toccato ci siamo scordati di una cosa importante che la tastiera è retroilluminata brevemente e molto velocemente vi diamo una carrellata di questo modello specifico della macchina perché i modelli di questa serie hanno più evoluzioni di processori, di memoria RAM, di hard disk abbiamo fatto venire l'acquolina in bocca sicuramente allora innanzitutto il modello lo ripeto è un expert book P2451 Firenze Ancona FA ed ha un pannello da 14 pollici nano age a 1920x1080 quindi un full HD questo pannello da 14 pollici attenzione come ho detto prima ve lo rimembriamo su una struttura da 13 pollici ragazzi non ve lo scordate eh ecco perché è così piccolo, così sottile e così poco pesante eh giusto? bagniamo avanti poi monta un processore intel di decima generazione da 2,3 gigahertz i7, non ve lo scordate ragazzi i7 decima generazione da 2,3 gigahertz ricordatevi il prezzo, quant'era il prezzo? il prezzo è circa di 800 euro ricordatevelo poco più poco meno eh, normale questo modello monta 8 giga di ram quindi a bordo ha due alloggiamenti di cui tutte e due sono stati già riempiti con 4,4 DDR4 la macchina è espandibile fino a 32 gigabyte quindi eliminando quelle che ci sono si può upgradare la macchina fino a 32 gigabyte bella questo fino a 32 non ve lo scordate questa è una delle veramente delle tante chicche di questa macchina considerate che all'interno c'è già un hard disk della serie M2 quindi quelli, lo sapete, ultra veloci quelli integrati direttamente su piastra da 512 giga ok ragazzi? 512 giga, voi sapete, già ci si può fare tutto qual è la bellezza e l'assurdo che sicuramente non vi aspettereste? questa macchina può montare un altro hard disk interno fino alla bellezza di 2 terabyte ok ragazzi? quindi oltre all'SSD voi potete mettere un altro hard disk di quelli classici da 2 pollici e mezzo ma come lo mettiamo dentro? guardate che cosa si è inventato Asus questo adesso cercheremo di farvelo vedere magari di vicino faremo uno zoom questo vedete? è gomma qui all'interno ci si monta un hard disk da 2 pollici e mezzo questo si va a incastrare nell'hard disk si apre da sotto la macchina un'operazione possiamo dire relativamente abbastanza semplice e si va lo fa Fabio lo facciamo noi non vi preoccupate e all'interno c'è anche il flat che è praticamente il connettore che si andrà ad attaccare all'hard disk da 2 pollici e mezzo e poi tramite il flettino si andrà ad attaccare su piastra mate quindi qua si monta l'hard disk quindi voi in questo computerino così piccolo vi trovate la bellezza di un, ripeto un SSD da 500-200 giga ragazzi non ve lo scordate ok? e un hard disk da 2 pollici e mezzo 2 terabyte dove andate a fare i vostri backup sempre circa 800 euro costa non ve le scordate queste caratteristiche che abbiamo dato fino adesso poi diteci se la valutazione non è obiettivamente buona poi questa macchina ha come tutte le ultime generazioni una bella webcam non di megapixel ma di luminosità ok? e di velocità come frame ma ha anche la particolarità della privacy allora ormai è nata questa moda che abbiamo un coperchio che si muove sulla scocca e quindi va a chiudere la nostra webcam nel momento in cui non ne abbiamo bisogno proprio qua ragazzi qui c'è un coperchietto e io posso adesso da vicino Fabio quando faremo le immagini che facciamo vedere meglio che va a chiudere sapete quanti di un po' quanti computer ci portano al negozio con lo scotch il cerotto della nonna quello del bambino con gli orsietti il pezzo di carta la gomma te lo ricordi? la gomma da masticare ci abbiamo trovato però qui non ce n'è bisogno perché essendo stata pensata per il lavoro quindi di cose di un certo riservo quindi giustamente deve stare molto attenti è proprio lo sportellino che va a chiudere la videocamera poi dove siamo arrivati? la webcam è vero? qui c'è come al solito questo ve l'abbiamo detto essendo una macchina progettata per il lavoro non avrete certo una scheda grafica megagalattica assolutamente no ma c'è comunque una signora in trell in ultra hd quindi una scheda grafica in tel ultra hd vi faremo vedere i test tutto quello che abbiamo provato a far girare dai video a alcuni giochetti semplici ragazzi ripeto non è una macchina per il gaming la macchina non ha avuto nessuna assolutamente nessun problema è stata veloce in tutte le situazioni che abbiamo testato anche quando abbiamo caricato i programmi veramente veloce risponde bene veramente ragazzi non la stiamo ritorniamo al discorso famoso noi non prendiamo una lira da Asus magari ragazzi magari in realtà scusate ma questo è sempre di un cliente quindi dai piani alti oltretutto arriva facciamo una previsione un controllo e poi viene da datare è assolutamente obiettiva la nostra valutazione nel senso è un dato di fatto è veramente una macchina che non ci aspettavamo perché una macchina per lavoro ne abbiamo provate altri centinaia veramente centinaia di migliaia di macchine proprio non te l'aspetti è una macchina che ci si può fare a dispetto dell'utilizzo per il quale nasce ci potete fare veramente di tutto un'altra particolarità di questa macchina sempre per una questione di sicurezza privacy e quant'altro ha il fingerprint oltre quindi la password della macchina ma sappiamo benissimo che il software può essere manipolato e quindi come viene messo può essere torta la password con dei programmi appositi il fingerprint diventa un pochino più particolare anche perché all'interno di questa macchina c'è un chiamiamolo un piccolo processore che va a inibire qualsiasi manomissione della macchina quindi tra il fingerprint va direttamente a questo processore che ci dà una sicurezza maggiore per l'accesso alla macchina e ai nostri dati che sono una cosa più importante noi ve lo diamo per scontato lo diciamo con molta semplicità ma non è una caratteristica che hanno tutti gli altri notebook assolutamente ragazzi molti hanno il fingerprint ce l'aveva anche sony nel senso sono il riconoscimento dell'impronta digitale ma quello che asus ha fatto su questa macchina come giustamente ha detto fabio è un processore che si occupa appositamente di questi sistemi di sicurezza che è tutto un altro livello ecco perché battiamo sul fatto che le 800 euro ad oggi che stiamo facendo il video sono veramente un signor prezzo per una macchina di questo livello ok ragazzi le garantistiche gliel'abbiamo date sì abbiamo fatto una caratteristica veloce adesso vi mostriamo qualche periferica che è a bordo e direi a sto punto tanto le foto gliele faremo mandare i video anche mano a mano li possiamo salutare giusto? sì io mi metto il casco e te ne vado non è prendere un altro portatile così facciamo la prossima recensione la prossima volta no però basta il mercatino è chiuso è chiuso il mercatino si vi accontenterete di quello che troveremo le brutte invece di inforno la prossima volta vi facciamo un aspirapolveri abbiamo tagliato la testa va bene buona serata grazie a tutti famoso click iscrizione commento quello ci fa veramente tanto tanto piacere quindi vi diamo vi abbracciamo veramente a tutti e ci vediamo ai prossimi video buona serata ragazzi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti